oggi i commenti vediamo allora eccoci qui scusate per prima ripartiamo col cellulare è andata via la diretta purtroppo facciamo solo la diretta con il cellulare oggi o scusatemi problemi problemi tecnici non avevamo i problemi tecnici solo sul sito vediamo un attimo adesso l'amministratore posterà il sito sempre del libro per chi vuole approfittarne ciao a tutti portate pazienza scusatemi purtroppo è andato in tilt il pc la telecamera quella la telecamera esterna è andata in tilt è andata in tilt anche alle telecamere del pc è andato il tilt anche l'audio e vabbè adesso funziona aspettate un attimo partiamo subito e quindi se non sono su youtube purtroppo mi scuso con quelli youtube posteremo il video e portate pazienza purtroppo non sono su youtube in questo momento vabbè dai allora andiamo a vedere velocemente quindi faccio vedere col vi faccio vedere quello che avevo detto la scorsa settimana ciao leonardo ciao a tutti quanti va bene con la adesso mi vedete bene comunque sentite bene speriamo che non ci siano altri problemi portate pazienza allora avevo detto investimenti in qualità naturalmente andare ad acquistare a ridosso della chiusura non ha senso aspettiamo la chiusura del cash per cercare di fare l'operazione lì la telecamera voleva rimanere a cavarsi purtroppo avete visto che è in ferie andava tutto bene oggi c'è qualche problema non voleva venire in ufficio evidentemente c'è qualche problema che non va c'è qualche problema insomma con la telecamera e quindi voleva che volevo rimanere in ferie quindi si vede che oggi c'è qualcosina che non va va bene dai vediamo di sistemare tutto e cercherò di sistemare un attimino anche il pc per vedere un attimo cos'è successo al pc casomai cercherò di sistemare anche il mio direttamente perché qui sto facendo con un altro pc in questo momento abbiamo visto qualche problemino va bene dai abbiamo sistemato siamo rientrati allora è il bello della diretta proprio allora andiamo a vedere adesso il discorso 18 30 e 17 30 chiude il cash quindi non possiamo fare operazioni perché se siamo ridossi minimi molto probabilmente il mercato potrebbe rimanere lì e partire dopo perché tutti gli operatori tutti gli operatori che sono dentro ma sulle azioni hanno paura non vogliono tenere operazioni aperte per il giorno dopo quindi chiude l'operazione abbiamo visto che per quanto riguarda il dax abbiamo visto che aveva fatto questo minimo e questo calicetto direttamente proprio quando siamo in diretta 17 30 che potevamo entrare long su questo livello il minimo era questo quindi potevamo mettere lo stop qui sotto per vedere se il mercato andava su sta un attimo con gestione anno in questa area qui quindi è un operazione che si poteva tentare aveva veramente un bel risultato una cosa importante quindi per fare operazioni di qualità è quella di non quindi questa è la prima parte la seconda parte la faremo la prossima settimana purtroppo mi dispiace per quelli che si erano collegati con youtube che solitamente faceva anche dirette cui youtube evidentemente oggi è saltata questa diretta posteremo la diretta stiamo facendo adesso su facebook la posteremo anche su youtube mi dispiace per quelli che ci seguivano e c'è stato un inconveniente vabbè vedremo risolvere per la prossima settimana per quanto riguarda allora l'investimento in prima cosa non entrare quando c'è tanta volatilità a ridosso della chiusura dei mercati 17 30 non possiamo fare operazioni long si siamo ridossi minimi non possiamo fare operazioni short siamo ridossi di mare di massimi aspettiamo chi chiude il mercato perché è chiaro che c'è tantissima liquidità a ridosso delle chiusure e quindi questa grandissima liquidità che c'è a ridosso di chiusure potrebbe portare a una volatilità sappiamo benissimo che non possiamo fare operazioni nel momento in cui abbiamo tantissima volatilità sul mercato quindi evitiamo di fare operazioni in cui frangenti quindi uno evitare di fare operazioni infrangenti che c'è tantissimo volatilità evitare anche quando magari vediamo che non sappiamo esattamente dove possa andare il mercato è inutile fare operazioni quando non sappiamo dove possa andare il mercato noi abbiamo visto che circa un mese fa ho fatto l'operazione su enav eravamo ridossi minimi però questo ne parleremo nella prossima diretta quindi investimenti di qualità due ne parleremo la prossima volta quindi andiamo chiudere il discorso per quanto riguarda i ritracciamenti quindi abbiamo visto che possiamo fare operazioni ad osso i minimi ad osso i manimi di massimi e anche metà di grafico su qualche ritracciamento del mercato è chiaro che le mani forti chi quindi ho intitolato proprio il libro l'ombra delle mani forti perché sono loro che comandano il mercato e sono loro che dobbiamo cercare di seguire per fare delle operazioni le mani forti creano volumi creano liquidità sul mercato quindi cerchiamo di fare operazioni quando c'è liquidità sul mercato quindi quando non c'è liquidità sul mercato rischiamo veramente di farci male quindi liquidità ma non volatilità sono due cose completamente separate tante volte c'è tanta liquidità e c'è anche tanta volatilità noi facciamo operazioni quando c'è liquidità quindi quando il mercato è fermo non sappiamo cosa fare inutile fare operazioni perché in quel momento lì non faremo operazioni robuste non faremo operazioni di qualità ma faremo operazioni come lanciare la monetina quindi questo non va bene dobbiamo fare delle operazioni di qualità quindi per fare questo dobbiamo avere delle strategie operative in testa quindi in questo momento qui parleremo noi di ritracciamento però la prossima volta vi farò vedere dove sono concentrati i maggiori volumi sul mercato che sono a ridosso dei minimi massimi gli istituzionali sanno che a ridosso di quei valori lì c'è tantissima liquidità quindi loro cercano di mettere in atto tutte quelle strategie per mandarci in stop quindi dobbiamo tenere attenzione dove ci sono i livelli di volume quindi avevo scritto qui anche livelli di volume quindi se non c'è volume non facciamo operazioni e dopo dobbiamo cercare di fare operazioni quando c'è magari un'accelerazione quindi mi ha creato delle fasi di squilibrio sul mercato quindi le fasi di accelerazioni per andare a vedere se per il mercato va a riequilibrare quelle zone questo ne parleremo nella prossima la prossima diretta parleremo di questo al momento vi faccio vedere che avevo parlato la scorsa volta di espernet che era impostata bene abbiamo visto che ha fatto un ritracciamento importante su un livello da dove poteva ripartire il trend quindi vi farò vedere magari a livello con il cellulare naturalmente non riesco a farlo diversamente quindi farò vedere un attimino con il cellulare qualcosa e poi la prossima volta cercherò di organizzarmi in maniera migliore per farlo vedere in maniera migliore organizzerò meglio per farlo vedere in maniera più corretta ok allora andiamo a vedere velocemente espine tecnografico della scorsa settimana abbiamo visto che ha un massimo importante quest'anno qui vedete ci sono diversi massimi allora tenete presente che quando abbiamo diversi massimi ravvicinati se il mercato ci sbatte più volte è facile che i massimi come abbiamo visto stamattina ho visto che in sala qui ragazzi di non tentare qualche operazione sorta perché se ci sbatte due tre volte è facile che il livello venga rotto e vada in accelerazione quindi prosegue al trend in quella direzione quindi attenzione stiamo facendo trading su determinati livelli perché rischiamo dopo di prendersi in falce al mercato quindi di che vada in quella direzione quindi aspettiamo un ritracciamento che si appoggi sul livello da dove aveva rotto un livello importante quindi andiamo a vedere di fare l'operazione sul ritracciamento quindi il mercato mi dimostra forza rompe tutti i massimi fa un pullback in quell'area lì cerco di prendere l'operazione di fare l'operazione long per vedere se mercato riparte in quella direzione in questo caso qui abbiamo visto che esprimente ha fatto questo massimo ha fatto questo massimo di nuovo ed ho visto che qui aveva consolidato a ridosso di massimi quindi qui e qui il mercato poi ha accelerato quindi mettersi corti in questa zona qui era un suicidio però fare un'operazione long sul pullback quando il mercato riviene giù questa operazione che si poteva tentare long su questa protezione qui abbiamo visto poi che esprimente è volata quindi arrivata quasi a ridosso dei 5 e 30 5 50 quindi è arrivata molto molto in alto quindi ho fatto questa bella operazione quindi abbiamo visto che questa operazione long si poteva tentare con lo stop che era molto limitato quindi questa zona qui nella zona che aveva chiuso sopra il pullback e quindi qui si poteva tentare un'operazione long naturalmente per avere un'operazione e anche cercare di conservare il capitale ed avere un'operazione con stop abbastanza stretti è chiaro che non è che possiamo fare operazione long sul grafico daily lui sul grafico daily ci dà un'indicazione che mercato potrebbe andare su però noi concentriamo la nostra operatività su time frame inferiore magari a 5 a 10 minuti a 15 minuti in modo tale da cercare di avere uno stop più contenuto quindi se abbiamo uno stop più contenuto è chiaro che anche se ci va in stop possiamo cercare di rientrare sul mercato per fare altre operazioni quindi solitamente se diamo un pullback vediamo il mercato va su il mercato dopo da un certo punto ritraccia sul daily abbiamo visto che ha fatto questa accelerazione lo aspettiamo sul livello importante di supporto il livello di supporto importante è ridosso di 4 50 4 50 4 55 era il livello supporto importante perché come abbiamo visto il 4 50 e questo livello qui da dove espinet è partita abbiamo visto che dopo ha rotto ha fatto pullback su questo livello poi è andato su è chiaro che dopo noi se il mercato inizia ad andare su e abbiamo acquistato su un time frame basso dobbiamo portare la nostra operazione su un time frame alto quindi cercare di lasciarla correre perché nell'intraday prendiamo dei piccoli movimenti nel multi day possiamo prendere veramente dei movimenti importanti quindi è chiaro che dobbiamo tenere l'operazione aperta per più giorni casomai mettiamo un training stop non è che mi faccia andare amante un training stop cerchiamo di inserire un ordine di stop sotto un determinato livello magari o sul 15 minuti o sul 30 minuti è chiaro che se l'abbiamo portato sul grafico dell abbiamo visto che sono passate 5 6 ore e abbiamo visto che stiamo guadagnando di bei soldi cerchiamo di non portare l'operazione in guadagno in perdita quindi cerchiamo di lasciar correre il nostro guadagno per lasciarlo correre dobbiamo aspettare qualche giorno è chiaro che se abbiamo messo la nostra operazione in protezione devo lasciar correre il guadagno quindi questo è un po il discorso delle operazioni in avete visto sul pullback a ribasso che ne abbiamo parlato che è proprio il classico esempio che avevamo spiegato mesi fa e vi ho detto che appena torno dalle ferie e ho parlato la scorsa settimana che non con i feri vi ho detto espinet è il classico caso che a me piace l'avevo detto lunedì abbiamo visto che dopo per cinque giorni di fila espinet è salito tutti i giorni quindi mi ha fatto vedere veramente un bel ribalzo appoggiandosi su un livello importante di rottura è chiaro che qui noi abbiamo perso il movimento a rialzo la rottura non è che dobbiamo correre dietro al mercato perché se noi corriamo dietro al mercato non è un'operazione di qualità è un'operazione per cercare di correre dietro al mercato e quindi dopo non sappiamo dove mettere lo stop quindi noi dobbiamo avere delle idee ben chiare perché per arrivare a cliccare sul mouse come avete visto un mese e mezzo fa adesso vado a vedere magari se riesco a inserire il grafico di enav vediamo un attimo quando ho acquistato enav e se vi ricordate vediamo un attimo se mi fa vedere enav ok se vi ricordate enav su questa discesa io l'avevo presa su questo livello qui e come avete visto avevo detto che l'avrei venduta in quest'area qui da dove è partito l'impulso ribassista è chiaro che io per cliccare per tenere enav però può andare su vedete che lo stop da questo livello ve lo stop sotto i 3 40 quindi comprare una 3 48 come l'ho presa io che dopo andata a ridosso di 3 80 l'ho venduta qui ho guadagnato quasi il 10 per cento sul titolo con un rischio che era un punto due punti percentuali quindi guadagnato 1 a 5 rispetto al mio investimento però per fare questo non è che lo fai dalla sera alla mattina per quello dico i ragazzi prima di fare delle operazioni di trading si vuole un po di tempo bisogna capire come funzionano i mercati e allora dopo quando avete capito un attimino come funzionano i mercati avete fatto tanto demo allora dopo riuscite a capire un attimino il meccanismo e fare delle operazioni di qualità perché per fare operazioni di qualità bisogna sapere esattamente come muoversi quando il grafico si trova a metà del grafico quando stanno facendo delle fasi di accumulazione o distribuzione che magari sono le fasi un pochino più incerte al mercato quindi si fa un attimino di fatica a capire cosa potrebbe fare il mercato ad esempio adesso il fiucio del dax ha fatto una fase che se noi non sappiamo cosa sta facendo in questa fase qui il dax è inutile meglio stenerci dal mercato perché il rischio di prendere di fare operazione di andare in stop di riprendere di nuovo e magari adesso sì mi sta dicendo che magari molto probabilmente potrebbe accelerare su però qui non sto facendo un'operazione di qualità perché il rischio di avere uno stop largo qui invece è un'operazione di qualità perché ho aspettato le 17 30 ho aspettato che il mercato chiuda il cash non c'erano più perché se non derivato della borsa molto probabilmente il dax poteva chiudere il rosso dei minimi aspetto che chiuda il cash vado a fare l'operazione diminuisce la volatilità riesco a ragionare meglio riesco a gestire meglio lo stop quindi queste sono operazioni di qualità e vedrete quando fate queste operazioni la vostra operazione è un'operazione robusta che è forte e difficilmente vi va a beccare lo stop se invece come ho visto oggi che ho fatto qualche ripasso dei ragazzi dicono vabbè ho visto che qui c'era del volume ho visto il volume che stava stabilizzandosi un attimo il mercato quindi ho comprato perché ho visto il volume che molto probabilmente per me va su però non l'ho fatta né a livello grafico perché ho visto solo i volumi ho visto magari un piccolo arresto e però l'ho fatta così distinto o le operazioni distinto non si fanno si fa un'operazione perché si è ragionato deve averci una logica ho visto che c'erano degli istituzionali che hanno bloccato il prezzo ho visto che a livello grafico quindi ho interfacciato sia a livello grafico che a livello volumetrico di fare la mia operazione e quindi so che magari lo è lo stop stretto non ho lo stop così metto lo stop così a caso mettono stop perché graficamente visto lo stop stretto quindi io ho visto graficamente non è quel giorno che me l'ha detto ragazzi a enava sarà due anni che non la controllo a enava me l'ha detto flume mi ha detto questa cosa qui che avanza ancora avanza ancora da bere quindi metto questa cosa io l'ho presa subito però per arrivare a cliccare subito come ho fatto io dovete avere un po di esperienza perché altrimenti rischiate di fare un'operazione di buttare via la vostra i soldi con un'operatività che alla fine dopo vi produce solo delle perdite e non vi produce dei guadagni quindi per produrre di guadagni per produrre delle operazioni di qualità dovete capire esattamente come si muovono le mani forti e come cercare di entrare a tricettare tutte quelle operazioni in modo tale che avete lo stop stretto in modo tale che fate un'operazione abbastanza robusta e che mercato difficilmente vi va in stop ok e poi una cosa fondamentale cercare di gestire bene l'operazione perché inutile fa un'operazione di qualità che dopo la gestiamo male e come magari comprare o avere i soldi comprare una ferrari e non essere capace di guidarla oppure alla prima accelerata andiamo fuori strada e che ci facciamo male è chiaro che compriamo un'auto diluso un'auto che fa una buona velocità e chiaro dobbiamo essere in grado di pilotarla di 10 di bravi piloti quando ho venduto la mia macchina io quando ho avuto il mio carriera 4s il ragazzo che l'ha presa dopo una settimana l'ha distrutta perché voleva provare e di vedere come funzionava il 4s con la pioggia è chiaro che avendo le ruote molto larghe con la pioggia non è che ci sono tante auto che rimangono in strada quindi è chiaro che bisogna accelerare come facciamo noi quando c'è una strada ad esempio un sacco di limiti di velocità però quando c'è una strada che ci permetta di accelerare e quando non c'è tanta pioggia quindi non è che possa fare le curve ai 150 180 chilometri all'ora quando c'è la pioggia o c'è più c'è nevischio oppure c'è appena inizia a piovere perché rischiamo di andare fuori strada come è capitato questo ragazzo che si è distrutta l'auto io un'auto una delle auto più sicure 4s avevamo 48 motrici una macchina molto stabile in strada però tu hai comprato una macchina di qualità che funziona bene però su determinate circuiti su una strada pianeggiante che non ci siano buche che non ci siano che non ci sia pioggia quindi in condizioni ideali condizioni ideali che noi dobbiamo trovare sul mercato e quindi dobbiamo fare queste operazioni di qualità quando abbiamo il mercato che si sta dimostrando ci sta mostrando qualcosa di importante quando sta facendo determinati movimenti vediamo un attimino il dax ha fatto quella piccola finta di ribasso se magari riesce a ritornare sopra sopra 12 mila 9 e 71 12 mila 970 questo momento quindi diamo un attimo se dax va al su allora avete capito le operazioni di qualità come devono essere fatte non dovete avere fretta per fare operazioni per farle queste operazioni e perché io preferisco che i ragazzi facciano operazioni specialmente sull'azionario che meno a meno volatilità rispetto mari future e quindi per fare queste operazioni ci vuole un po di tempo e un po di pratica per capire un attimo come funziona perché altrimenti già rischiamo di perdere velocemente il nostro capitale per veramente di bei soldi vediamo ci sono domande allora stefano denti mesi grazie tutte di tutte le preziosissime info introvabile altrove grazie mille a te stefano della fiducia vediamo se magari mi sono perso qualche quando ci sarà il webinar gratuito con l'acquisto del libro tra 15 giorni ci sarà un webinar gratuito quindi faremo webinar live e quindi su questo webinar vi farò vedere delle belle cose e dobbiamo aspettare un attimo un po di libri perché altrimenti facciamo webinar live dopo l'hanno preso in pochi quindi faremo 23 webinar sul dopo che abbiamo fatto un po di vendita allora vediamo un attimo mercolio di 4 se riesce a esaminare sp perché ai minimi del 17 30 ripartito a rialzo aspettando su quei livelli non sono riuscito ad entrare perché non ho trovato nessuna figura grafica cosa avresti fatto tu saresti entrato e come allora 17 30 era un attimino complicato però per chi a due minuti ha preso magari che tu mirko e hai anche il video inedito sull'un dei tre di giro rossi era l'un dei tre giro rossi che potevi farlo e si poteva entrare anche con un due tre per chi ha magari prende il libro sa che l'opzione che potrebbe prendere anche questo video che viene inserito dentro al al libro quando sta facendo del il il pagamento c'è un potrebbe comprare acquistare anche a un prezzo scontato un video corso sull'un dei tre modificato di giro rossi vediamo se ci sono altre domande purtroppo portate pazienza oggi è stata una giornata un pochino complicata la potresti spiegare meglio quella delle 17 30 sui massimi non si compre sui minimi non si sorta grazie allora per quanto riguarda sui minimi sui massimi emanuele tronchetti lo spiegheremo la qualità delle operazioni degli investimenti la spiegheremo la prossima volta il dax è salito sopra 12.970 vediamo sembrerebbe impostato per accelerare rialzo vediamo nati mi ha fatto vedere qualcosina di interessante però anche qui sembra una fase un attimino incerta sul mercato io non farei mai operazioni qui l'avrei fatta sotto su come calicetto però in questa fase qui vedete che è un attimino volatile fa un attimino di fatica però qui è una situazione un pochino complicata qui quindi qui stare un attimino attento fare delle operazioni quindi sui minimi sui massimi parleremo la prossima volta quindi faremo la seconda fase di questa diretta spero che non succedano altri malanni purtroppo sono due anni che facciamo le dirette abbiamo solo due due problemini sono anche pochi visto che facciamo più di due anni due anni due tre mesi di dirette non abbiamo avuto problemi vediamo grazie ok vediamo nati un milanista mi dice ma lo stop non era troppo ampio per l'uno dei tre era un attimino ampio lo stop sull'uno dei tre esatto bravo è un timino ampio è chiaro che noi avendo la possibilità di lavorare ho già detto già diverse volte nelle mie dirette che sia lo stop ampio non entro con il contratto pieno delle sp 500 che mi costa 12 dollari e 50 tic entro col micro per vedere se dopo prende il movimento e mi passo quindi entro col micro per cercare di vedere se prendo il movimento a rialzo ok quindi avendo lo stop largo è chiaro che secondo magari in questo caso qui avremmo avuto circa 94 non tu avevo tre punti di stop che ne avevo 150 dollari di stop è chiaro che in quel caso lì aveva preso il micro per vedere di non perdere il movimento quindi con il micro diminuivo un attimino il rischio diminuivo anche la perdita quindi potevo fare l'operazione sulla appena fatto in treno un calicetto bravissimo andrea a tre mi bravo andrea bravo merco sia quest'altro sia il libro che è un 23 gioros ok va bene perché dopo ce l'avete sempre quel video ciao paolo ve l'ho segnalato anche di mail venerdì mattinata time frame 240 minuti tra le otto e le dieci ho trovato una tua figura grafica marsiliezo visto bene il vero come questo libro avrà tematiche non trattate ogni webinar con acquisto del libro avrà tematiche non trattate nel libro ci saranno ci sarà qualche altra tematica che che non trovi nel libro quindi ci sarà qualche altra tematica importante poi è chiaro che col webinar c'è la possibilità di interagire con me come fatti tutti e tutte le settimane su facebook su facebook mi fate qualche domanda scusatemi ma ho parlato tutto il giorno quindi ogni tanto mi si è torcido un attimo la lingua quindi avete possibilità di interagire con me paolo stamattina sul canale tenerman il tuo massaggio non c'è nei livelli del fib non buono sei perdonato solo perché il libro è pronto e lo compro subito complimenti per la copertina che già fa colpo il suo grazie mille a nome domani ti prometto che farò l'analisi sul sul nostro derivato purtroppo stamattina sono arrivato di corsa ho fatto l'analisi velocemente avete visto l'analisi che ho fatto stamattina sul dax abbiamo visto che ha rimbalzato esattamente sul livello che avevamo dato il primo rimbalzo l'ha fatto su quell'area lì avevo già detto alle otto che è un attimo pericolosa quell'area lì perché non avevamo grossi volumi proprio visto che dopo alle nove nove mezza ha fatto quei due tre livelli li ha toccati quei livelli da lì è sempre rimbalzato due tre volte quindi rimbalzato abbastanza bene quindi domani a nomi troverai la l'analisi sul fib sia per quanto riguarda la tutti quelli sono iscritti gratuitamente al canale telegram di che se qualcuno mai non ce l'ha potrebbe scrivere info che ho stato borsa oppure qualche volta lo mettiamo qui quindi il canale gratuito e quindi potete trovare le analisi che faccio io sul dax sul fib e sull's pc 200 tutti i giorni allora paola tre minuti non ci stava dhs su poc di venerdì allora sul poc di venerdì gianluca purtroppo faccio fatica andarlo a vedere adesso allora sorta spx ci può stare secondo te due divergenze delta e ha toccato poc 30 minuti in questo momento non riesco a vederle allora vincenzo ciao vincenzo ciao giancarlo grazie paolo le tue info sono sempre preziose a differenza di altre tre tu fai vedere sempre risultati a dimostrazione che quello che dici corrisponde a verità grazie mille giancarlo è una cosa importante per quanto riguarda il libro lo faccio di vedere di nuovo il libro vi faccio di vedere di nuovo il libro qui mi faccio vedere una pagina del libro vediamo un attimo se riesco a trovarla ci sono anche vediamo un attimo se riesco a trovarle comunque in questo libro qui rispetto a tutti i libri di trader e di favuro che che scrivono vendono libri un'altra ci sono anche faccio vedere ci sono anche i capital gain degli anni pagati quindi abbiamo anche i risultati degli anni quindi ci sono parecchie cose c'è vediamo un attimo si riconosce da zero a 3 da professionista ho fatto vedere perché cose poi diamo qui ci sono anche i ragazzi ecco qui posterizzato tutto a colori quindi riguarda che avete anche questo faccio vedere un attimino il book faccio vedere parecchie cose faccio vedere un attimino al book anche adesso sto facendo vedere tante cose poi ci sono anche vediamo un attimo vediamo un attimo perché altrimenti vi mostro troppe cose del libro avete visto che bella che l'impaginazione anche ci sono diversi miei allievi tra cui c'è lo studioso tra cui abbiamo anche i guadagni con le certificazioni con le certificazioni della banca quindi abbiamo anche i guadagni di soldi guadagnati dai treni quindi abbiamo oltre aver riportato il capitale che ho parlato io diversi anni faccio vedere i bonifici in uscita che li ho tolti dalla banca ho fatto vedere anche i diversi miei allievi che mostrano i loro risultati e vi dico su questo trading report vedrete veramente dei risultati eccezionali quindi tutto a colori questo è tutto a colori che ne cioè io vi dico la verità col libro non ci guadagno un euro e ci abbiamo rimesso dicevamo rimesso veramente tanto per fare queste tre cose qui fare il libro fare report e fare webinar ci abbiamo rimesso perché fare solo report tutto a colori capite benissimo di riva il corriere a casa e lo prendete vi arrivi al corriere direttamente a casa ve lo consegna quindi capite che per noi mandarvi il corriere a casa e mandarvi il libro in questa maniera qui chiaramente non ci guadagno un euro grazie paolo sempre per tutti noi per caso puoi guardare cairo per avere la tua opinione vediamo un attimo se riesco a vedere cairo velocemente vai dopo cairo sta facendo una buona base però è ancora un attimino pericoloso su questi livelli qui adesso non posso dirti il perché però un attimino siamo su dei livelli importanti di minimo siamo su di livelli importanti di minimo però su cairo starei ancora un attimino attento siamo su dei livelli importanti dove è repartito movimento però qui ti dico la verità cairo starei ancora un attimino attento in questo momento qui non la prenderei aspetterei un altro minimo per vedere il nuovo minimo come lo fa starei un attimino attento su questo minimo qui su cairo quindi starei starei attento quindi se fosse aperto mercato non acquistare cario in questo momento qui starei un attimino attento ciao paolo se si usa il protocollo pvps e i 10 casi a 30 minuti tempi più alti è fondamentale riscontrare anche i tuoi parte grafici magari a due minuti allora luca quando parlo del pvps io parlo che deve essere fatto con grafico 30 minuti sul protocollo sul volume profile e poi dobbiamo andare a analizzare a due o cinque minuti per vedere di trovare un'entrata a 25 minuti quindi i ragazzi saranno benissimo a fare le operazioni quello che hanno fatto il corso e bisogna cercare di intercettarlo a due o a cinque minuti quindi è chiaro che lì abbassiamo un attimino il nostro è partito di nuovo la telecamera e stasera me ne va bene una il teneremo incluso con il libro sì perché l'ho preso a occhi chiusi non l'ho letto sì il trading report è allora avete libro trading report e webinar quindi avete queste tre cose che sono comprese nell'acquisto del libro cairo anche per me comunque attenzione a cairo allora è chiaro che io qui con su cairo se faccio un'operazione non è un'operazione robusta perché avrei un attimino di paura comprare cairo perché non mi ha fatto vedere una determinata cosa e quindi starei un attimino attento al 50 per cento di probabilità è chiaro che potrei tentare qualche operazione intraday su cairo per vedere se va su però starei un attimino attento perché non è proprio non è proprio il massimo non c'è non c'è il famoso cassius clay ok il dax è arrivato 12.977 sta ruotando lì pochi scambi quindi è meglio stare un attimino attenti tesla sul mercato americano non la sto guardando in questo momento qui so che ha fatto lo split oggi quindi sulla tesla e l'altra era che hanno fatto lo split oggi apple quindi hanno dato una cinque azioni ognuna posseduta l'altro quattro azioni ognuna posseduta quindi adesso in cile meno la un attimino meno sembrerebbe la volatilità non si nemmeno sui movimenti del mercato americano andiamo del nome stiene d'occhio grazie ciao paolo cosa ne pensi del pop per house e si beh diego si sono sì ci sono parecchie società di di brokeraggio che ti danno la possibilità di lavorare con loro però è chiaro se intendi questo ti hanno la possibilità di lavorare con loro a fronte di qualche soldino che devi tirare fuori solitamente sono delle selezioni queste selezioni se le fanno pagare solitamente vedono che pochi ragazzi riescono a a passare queste selezioni quindi guadagnano anche sulle selezioni non è che mi faccia diventare matto questa cosa e quindi preferirei evitare apple esatto apple bravo vissimo andrea apple allora abbiamo finito la diretta mi scuso per queste due dirette che abbiamo fatto vi aspetto lunedì prossimo per la diretta cercherò di sistemare tutto per quanto riguarda la telecamera che ho avuto qualche problemino cercherò di metterla bene perché sono arrivato a casa ieri sera e non capisco come mai il mio pc quello portatile mi ha creato qualche problemino comunque cercherò di metterlo su questo pc e sul mio personale lo faccio tra i tutti i giorni notare da vedere di non incappare qualche problema purtroppo i problemi ogni tanto ci sono scusatemi dei problemi che abbiamo avuto questa sera mi dispiace per tutti quelli che mi seguono su facebook e su youtube e perché non sono riuscito andare in diretta anche per loro quindi cercherò di ovviare che questa cosa qui un saluto a tutti voi ciao carlo ciao diego appuntamento prossima settimana è un abbraccio a tutti e scusatemi ancora del disagio che ho fatto questa sera qui e la prossima volta parleremo di minimi massimi andiamo a vedere proprio i volumi come si stabilizzano sul mercato buona serata a tutti ciao e purtroppo sono finite le ferie ciao a tutti ciao bentornato a me c'è bentornato fine settimana faremo il solito report sulle azioni e provo vedere le mail settimanali e riprendiamo ancora con le analisi del mercato tutti i giorni sia su telegram per quanto riguarda anche il gruppo privato per chi ha acquistato il volum profile ciao a tutti un abbraccio e grazie per la fiducia ciao ciao